E' cominciato a Brandeburgo sulla Havel, in Germania, il processo contro un ex guardiano dell'SS nel campo di concentramento nazista di Sachsenhausen. L'imputato, che ha 100 anni, è accusato di avere contribuito all'ecidio di oltre 3500 prigionieri tra il 42 e il 45. L'ex guardiano ha fatto sapere attraverso il suo avvocato di non volersi esprimere sulle accuse che gli sono rivolte. Durante il procedimento saranno ascoltati 16 testimoni, tra cui 7 sopravvissuti ai campi di concentramento e 9 parenti delle vittime. Per Antoine Grumbach, discendente di una delle vittime del campo di Sachsenhausen, il processo ha un valore simbolico che va al di là del singolo imputato. Non è solo lui ad essere sotto accusa, ma anche tutti gli altri guardiani del campo che si sono comportati in modo inaccettabile e sono stati complici, che che se ne dica. Il comitato di Auschwitz ha puntato il dito contro la lentezza del sistema giudiziario tedesco. Questi processi sono il frutto di una giustizia tardiva. E' tardiva anche perché la giustizia tedesca ha trascurato per decenni i processi agli ex-nazisti. Non era interessata a perseguire i criminali. A causa dell'età avanzata, l'imputato potrà restare in aula per non più di tre ore al giorno. Il processo dovrebbe durare almeno fino a gennaio.